Cerimonia di saluto stamattina nel palazzo di giustizia di Catanzaro per il procuratore generale di Catanzaro Raffaele Mazzotta che dal 30 luglio andrà in pensione. Presenti alla cerimonia il presidente della regione Mario Oliverio, il presidente della provincia Enzo Bruno, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, oltre naturalmente a magistrati di tutti i circondari e di tutte le procure calabresi, ai rappresentanti dell'avvocatura e dai vertici delle forze dell'ordine. Mazzotta era entrato in magistratura nel 1972. Ho sentito oggi intorno a me grande affetto, grande stima, ma veramente sostanziale, non retorica e questo mi ha fatto estremamente piacere e mi ha commosso. 40 anni più 6 lei ha aggiunto di attività, il presidente in trocaso diceva un uomo che ha servito lo Stato e le istituzioni. 46 anni, voi capite che significa la vita, sono tantissimi, io ho sempre creduto nell'istituzione che ho servito, per me la magistratura è il massimo, io ci ho creduto tantissimo, ci continuo a credere, sono orgoglioso di quello che ho fatto, non aspetta a me valutare i risultati, ma sicuramente ho dato ogni mia energia, sottraendole anche magari alla mia famiglia. A me è piaciuto sentire la sua dichiarazione di fede, vorrei che lei la facesse ai cittadini, alla Calabria. Sì, io ribadisco quello che ho detto nell'occasione poc'anzi, cioè io voglio esprimere grande fede, grande speranza e una dichiarazione nei confronti di cittadini calabresi che abbiano fede e speranza nel loro futuro, però bisogna essere credibili, perché se non siamo concretamente credibili le parole volano al vento e allora per essere credibili, come io, rapidamente ho fatto genno, occorre lavoro, 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 lavoro per i giovani, per sottrarre i giovani per le tentazioni della criminalità e della criminalità organizzata, occorre fortemente la possibilità di raggiungere questa nostra terra mediante infrastrutture che siano vere e quindi collegamenti efficaci ed efficienti e nello stesso tempo che ci sia una forte etica della legalità e della correttezza nei rapporti amministrativi e nei rapporti umani.